amici di rete flegrea stamattina ci troviamo qua nella sede della nostra associazione per augurare buon viaggio alla signora dorota dorota anzi dorota sbaglio sempre l'accento signora dorota è una delle vincitrici della nostra della nostra crociera e domani mattina partirà per questa crociera nel mediterraneo non è vero pasquale certamente antonio l'accento signora 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Persona tiene un uomo Sen"; Sexy Lady Don edga Demolito No ogni i ja. I te e da si fuma un amico da mordi puo nun ja ja Andiamo Oh 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 Grazie a tutti.